Come possiamo migliorare l'efficienza energetica delle nostre abitazioni? Prima di tutto è necessario conoscere le nostre abitazioni, quindi è fondamentale partire da una diagnosi, da un audit energetico della nostra abitazione per capire dove è possibile migliorare le caratteristiche della nostra casa. Interventi facilmente abbordabili e da un costo contenuto sono in primis la sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione, intervento che può essere detratto del 55% dalle spese fiscali e quindi la spesa viene dimezzata, la sostituzione degli infissi per migliorare la tenuta termica della nostra abitazione sia d'estate che d'inverno oppure intervenire anche sull'utilizzo di elettrodomestici molto più efficienti. Ricordiamo che elettrodomestici di ultima generazione risparmiano anche il 50% di energia rispetto ai elettrodomestici di due o tre anni fa. Un ulteriore modo poi per misurare la propria efficienza è quello proprio di concorrere, entrare in una vera e propria competizione dove io posso capire se sono efficiente e competitivo rispetto agli altri. Come posso fare questo? Attraverso il sito di Adconsum è possibile partecipare alla Coppa Climatica dove io mi metto in gioco e in funzione dei consumi della mia abitazione posso vincere un premio del valore di 2.000 euro.